La componente di Centro Democratico, che si avvale di importanti adesioni parlamentari, tra l'altro molto giovani, ha apprezzato il suo intervento. Noi riteniamo la sua figura centrale nell'equilibrio parlamentare di questa legislatura. Non c'era certo bisogno di una crisi così incomprensibile, collocata in un momento così drammatico per il nostro Paese, sia sanitario, sia sociale, sia economico. Certo non andava tutto bene nel suo governo, ma la modalità certo non era questa. La scelta di aprire la crisi è stata una mancanza di rispetto nei confronti del Paese. Per questo nessuno l'ha capita. E la scelta di parlamentarizzarla è stato un atto doveroso, ma non scontato, gesto risarcitorio di rispetto. Siamo in un momento decisivo nel quale si dovrebbe rilanciare un grande processo di riforme strutturali. Lei le ha ricordate. Non possiamo non trasformare le enormi difficoltà originate dalla terribile pandemia nelle grandi opportunità che la solidarietà europea finalmente ci ha messo nella condizione di cogliere pienamente. Si può forse ancora fare un patto di legislatura, ma ci vuole molta qualità politica. Lei ha indicato giustamente la necessità di dotarci di una legge elettorale con un impianto proporzionale che consenta la ordinata conclusione della legislatura. Le questioni politiche che abbiamo davanti sono chiare. Come dare più forza alla sua maggioranza parlamentare? Abbiamo apprezzato il suo appello. Con il discorso di stamane lei risponde al popolo italiano sia se noi fossimo costretti ad affrontare le urne nel giro di qualche mese sia se, come ci auguriamo, la legislatura prosegue fino alla naturale scadenza. La nostra componente parlamentare farà la sua parte e saprà dialogare con il Movimento 5 Stelle, con il PD, con l'EU e anche con i colleghi di Italia Viva che saprano ricollocarsi all'interno di un'alleanza parlamentare e capace di affrontare con efficacia questa fase così drammatica. Secondo me non basta il semplice passaggio formale di un doppio voto di fiducia tra oggi e domani. È necessario che lei guidi un nuovo governo. Credo si tratterebbe anche sul piano costituzionale di un passaggio politico che le darebbe più forza sia nel Parlamento che nel Paese. Così può nascere in questi giorni e si delineerà nel settimane a venire con chiarezza sempre maggiore uno schieramento alternativo al blocco sovranista e populista. Lo spazio c'è e può essere vincente. Uno spazio politico di prospettiva, ha concluso il Presidente, alla cui costruzione daremo un contributo anche noi di centro democratico italiani in Europa. È dunque doppio l'impegno che l'attende, signor Presidente del Consiglio, di legislatura e di prospettiva, guardando da entrambi il nostro gruppo con convinzione le accordo a fiducia e pieno sostegno.